Verso l'alternativa, il PD regionale si organizza anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, ma non solo, e presenta due documenti, tra cui il Vade Mecum per la prossima generazione Abruzzo, per la consultazione del Comitato delle Idee, con personalità abruzzesi, dei circoli, delle amministratrice ed amministratori locali, delle forze politiche, civiche, sociali e associative, dei movimenti, delle rappresentanze editoriali e sindacali. Un documento tesi per l'Abruzzo che in 25 punti tocca diversi temi, come PNRR, transizione ecologica, politiche comunitarie, istruzione, cultura, lavoro e molto altro, con tanta attenzione ai giovani, riassunti poi in un Vade Mecum che sarà offerto a circoli che potranno dare il loro contributo. Un'idea che è naturalmente una piattaforma alternativa perché questo ci chiedono gli abruzzesi. C'è ormai sfiducia verso la guida della regione, ma naturalmente c'è attesa verso una proposta alternativa. Il PD non basta. Il PD userà queste idee per dialogare innanzitutto con un proprio comitato delle idee. Lo presenteremo tra una settimana alla nostra assemblea regionale. Prosegue il percorso di coinvolgimento di straordinarie personalità che questa terra ha. Abbiamo già coinvolto Lino Guanciale, Luciano D'Amico, Enzo Di Salvatore, Enrico Raimondi, Enzo Di Natale, per citare solo alcuni. Ne coinvolgeremo molti altri del mondo delle professioni, del lavoro, dell'accademia che questa terra ha e che potranno interloquire con noi proprio su questa piattaforma che oggi presentiamo. Le tesi per l'Abruzzo, diciamo, che rappresentano un po' il patrimonio che noi offriamo anche al confronto con le parti sociali, con le organizzazioni economiche, con il mondo produttivo abruzzese e il Vademecum che noi un po' sul modello di quello che ha fatto Enrico Letta a livello nazionale trasmetteremo ai circoli appunto per raccogliere i loro contributi, le loro idee sulla base della nostra idea di partito che è appunto un'idea di partito orizzontale, un'idea di partito partecipato, un'idea di partito aperto che si apre appunto ai contributi degli iscritti, dei simpatizzanti ma anche della società abruzzese in questo caso per costruire l'alternativa alle forze politiche che governano male la regione Abruzzo in questo momento. Il PD si pone come partito aperto, hanno detto i presenti, e lo ha fatto anche durante la pandemia, ascoltando tutti mentre la regione decideva di chiudersi al dialogo, hanno ribadito. Una proposta quella presentata che ha un'anima e una visione del futuro rispetto alle azioni invece messe in campo a livello regionale. Il tema delle infrastrutture non è di secondaria importanza, come la lotta alle disuguaglianze rispetto all'accesso alle pari opportunità. Il PD attuale insomma è impegnato a valutare le priorità per la regione perché questa volta non si può sbagliare, hanno detto. Visto il momento storico nazionale e locale e ciò richiede che le scelte di programmazione siano precise e oculate, per questo si parte con largo anticipo ai fini delle nuove linee programmatiche per un nuovo governo in Abruzzo. Grazie a tutti!